E niente, se chi fosse interessato alla mia musica o eventualmente alla mia persona avete due opzioni, alla fine del concerto apro il banchetto sull'angolo di quella gabbia lì potete o acquistare il mio album o potete conoscere la mia persona o potete acquistare la compilation da me prodotta in cui dieci band venete hanno eseguito una cover di Tony the World Woman Band o semplicemente potete darvene a fanculo perché questo che vi spetta è rock and roll sia Ognuno di noi ha la propria giornata lavorativa con ognuna persona altamente scomoda Gentilmente un po' di voci spia che non mi sento mentre dico le improperie e le bestemmie E questa persona altamente scomoda giorno dopo giorno scavando piano, 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 piano ma inesorabilmente ci rovina questa giornata lavorativa e quindi questo è l'idea di noi giovani che siamo contro a queste persone che ci rovino la giornata lavorativa è un pezzo per Mississippi intitolato VECCHIO BASTARDO Vilchio baschampo Ultimazione Il vostro levato il vostro levato il vostro el vostro il vostro il vostro che ci individue guessed A presto si stai dentro Sì Puoi ciò che stai dentro C'è altro signore Che fa Che era C'è altro signore D' maple Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Ok è facile Fa così Ok la rifaccia per l'ultima volta Ci proviamo Altrimenti ci consumeremo Dalla rabbia Grazie per la visione 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 Grazie per la visione